Sono Paolo, lavoro presso Bassan Bernardo e Figli, di Tiene, in Enoteca ad hoc e sono responsabile delle vendite. Si possono trovare mille etichette, mille prodotti referenziati dall'alimentare al vino. Proponiamo all'interno della nostra enoteca prodotti non alimentari e inerenti comunque al vino. Artis si distingue come tipologia di regalo appunto per l'estetica e per la qualità principalmente dai materiali utilizzati. Viene un cliente l'acquista appunto se vuole fare un regalo importante perché è un prodotto senza dubbio che è d'effetto. Viene percepito bene e se qualora un cliente voglia fare un regalo importante, comunque di prestigio, dato appunto l'estetica e anche la qualità del materiale impegnato, piace molto. Grazie per la visione!